Un'esibizione come tante, uno show divertente e colorato che per la lotta drag queen Salentina Tequemaglia si è trasformato in un incubo, vittima degli atti di bullismo e delle offese da parte di un gruppo di ragazzi proprio durante la performance. A denunciarlo è la stessa artista che racconta l'umiliazione subita sulle sue pagine social. Durante una serata in un locale di Martano alcuni ragazzi della squadra di calcio del posto hanno cominciato a fare i bulli, prima lanciandomi del ghiaccio, poi hanno iniziato a prendermi in giro e alla fine per ben due volte mi hanno tolto la parrucca. Loro si divertivano e soprattutto ridevano nell'umiliarmi, ma ciò che mi ha fatto più male è stata l'indifferenza degli altri, tutti in silenzio, dei perfetti codardi. Mi veniva da piangere e mi sono sentita male, provo rabbia e soprattutto tristezza per loro, prendersela con chi è diverso, con chi è da solo e squallido e meschino, scrive con dispiacere. Un atto di bullismo per qualcuno aggravato dall'omofobia, ma dalla società del Martano, per bocca del suo presidente Fernando Donato, immediate le scuse, non ci riconosciamo in quanto è accaduto, questo episodio ci ha spiazzati e ci sconvolge, da sempre parliamo ai nostri ragazzi di rispetto, rispetto dell'avversario sul campo ed anche nella vita, un episodio che per noi è un fulmine a ciel sereno, in queste ore ha proseguito il presidente, parleremo con tutti i ragazzi, ma intanto chiediamo scusa e condanniamo con convinzione il gesto inqualificabile, siamo altro rispetto a ciò. Solidarietà è condanna per quello che è accaduto anche da parte del primo cittadino, Fabio Tarantino, che sui social ed anche all'interessata ha manifestato il suo dispiacere, sono amareggiato ed indignato, cercherò di capire chi sono queste persone, vorrei parlare con i diretti interessati per far capire la gravità di tutto ciò. Anche Arcighei Salento interviene su quanto accaduto, non tolleriamo che questi episodi passino inosservati, auspicando che tutti prendano le distanze da questi comportamenti perché contrastandoli adesso formiamo una collettività più attenta domani. L'invito è da più parti alla riflessione e al rispetto.